Musica Un sacco di gente qui Esce dall'ufficio gare Ma cosa sarà mai successo? C'è il bimbrolè Sì c'è il bimbrolè Cosa c'è addosso? C'è addosso una storia C'è addosso il pittorale Perché? Ma la gara si fa o non si fa? Ma speriamo Si fa Mi abbia permettendo si farà la gara Sì? E tu chi sei? Io sono l'ugolè Umberto Eh cosa fai con questa tavola? Cerco di fare la gara E tu chi sei? E tu chi sei? Che sei arrivato due non uno? Sono arrivato due grazie al mio avversario Che si sono auto eliminate a vicenda Però purtroppo uno non si è eliminato Che sei arrivato due non una pensione Grazie per la visione!